Le diamo il benvenuto al Pozzo di San Michele. Fu costruito all'inizio del XVIII secolo. Veniva utilizzato sia per l'estrazione di minerali che per l'abasamento dei materiali. Se visitiamo le profondità del Parco Minerario, alla fine della Cagna Gitana, ci troviamo nel Pozzo di San Michele, che ha i suoi caminetti di ventilazione all'esterno, vicino alla Piazza della Scosura. All'inizio del XX secolo aveva un argano in legno e una macchina per l'estrazione e il drenaio, e dal 1955 iniziò ad essere utilizzato come Pozzo di Ventilazione. La sua profondità è di 500 metri, raggiungendo il diciannovesimo piano della miniera. Adesso lasciamo questo posto. Ma può continuare a conoscere altra storia di Almaden, espostandosi al prossimo punto di interesse.